Chi è studioso della vita della professoressa Viola sa che per una stagione ha anche fatto politica, non dirò chi. No, non ho mai fatto politica. Non è stata in un'associazione... No, l'unica associazione in cui sono state è Emergency, e basta. Che però non è politica, è volontariato, quindi no, non ho mai fatto politica. Allora, ritratto. No, no, ma su di me vengono dette tante di quelle cose. No, no, io credevo di saperlo per certo, però... No, no, assolutamente, guardi, può dirlo anche, ma perché no, non sono mai... Non ha, scusi, non ha lavorato per l'associazione di Montezemolo? No. No, non ha fatto parte? No. Non lo conosce? Lo conosco, lo conosco, ma non ho fatto parte. Mi ha corteggiato, ma non ho fatto parte. L'ha corteggiata. L'ha corteggiata nel senso che... Sì, sì, abbiamo capito, corteggiato, una parola inequivocabile. Non vogliamo approfondire questo aspetto, che se no comincia a diventare delicata la questione. Voi...